amici bentornati nel video di oggi parleremo in modo dettagliato ed approfondito del famoso anzi famigerato citizen aqualand pro master 1 nella versione originale quindi la prima versione prodotta ovvero il modello denominato dagli appassionati 6 viti se state guardando questo video sicuramente già conoscete la storia di questo orologio ma io nel video stesso andrò ad approfondire in modo come ho detto estremamente dettagliato una serie di nozioni che sono note a poche persone per fare questo video ho impiegato diverse settimane di ricerca tra internet forum di appassionati mi sono rivolto anche a documentazione ufficiale citizen e rivenditori ufficiali della citizen che in passato trattavano questo questo modello per andarne un pochino a ricostruire non solo la storia ma anche tutte le versioni che sono state commercializzate di questa versione appunto denominata sei viti per chi fosse alla ricerca di questo orologio quindi per scopo collezionistico questo video sarà di grandissimo interesse perché riuscirò a spiegarvi di tutti quanti modelli di tutti quanti vari vari seriali quali sono le parti che sono coeve ovvero che appartengono alla stessa epoca ma soprattutto quali sono le parti coerenti per quale motivo vi dico questo perché negli anni parliamo di un orologio con circa una quarantina di anni e di vita sul gruppone molti di questi orologi sono andati perduti si sono rovinati si sono rotti e quindi quando alla fine degli anni 90 che era già uscito di produzione non era più possibile reperire tramite i canali ufficiali citizen la ricambistica salvo rarissimi casi in cui qualcuno aveva dei fondi di magazzino si è dovuto ricorrere al diciamo così cannibalismo ovvero orologi magari in parte non funzionanti venivano cannibalizzati per prendere delle parti e fare magari da due o tre esemplari un unico esemplare funzionante ma come ho detto essendo l'orologio stato prodotto in diverse versioni con caratteristiche leggermente diverse tra di loro oggi ci troviamo di fronte a tantissimi cosiddetti frankenstein ovvero orologi che sono sì coevi perché costruiti con parti originali dell'epoca ma che non sono in realtà coerenti perché magari a quello specifico modello a quella specifica versione appartenevano delle caratteristiche che non sono proprie delle componenti che sono state montate perché prelevate da un orologio magari di una versione differente ma andiamo subito a vedere come identificare nello specifico l'orologio che noi abbiamo tra le mani qualora siate interessati a acquistare ossia dalla ricerca ossia magari già in possesso e volete semplicemente fare una manutenzione o un controllo del vostro acqualand promaster 6 viti allora per prima cosa andiamo a definire qual è stato l'anno di produzione del nostro orologio questo lo possiamo facilmente capire dal dal fondello la prima cosa che dovete sapere è che l'acqualand promaster 6 viti è stato prodotto dal 1985 al 1993 quindi per solo otto anni il numero grande che è il diciamo così seriale dell'orologio è costituito da una serie di numeri il primo numero vi faccio comparire qui in sovraimpressione un'immagine per più facile comprensione indica l'anno di produzione nel caso specifico trovate un 7 che significa appunto 1987 ci fosse un 9 sarebbe 89 ci fosse uno 0 sarebbe 1990 fino al trovare al massimo un 3 che è il 1993 le seconde due cifre indicano invece il mese ci fosse 0 6 sarebbe giugno nel caso specifico c'è un 12 e quindi significa che questo orologio è stato prodotto nel dicembre del 1987 i quattro numeri successivi indicano il vero e proprio seriale dell'orologio ovvero il numero di cassa diciamo quella che è la targa dell'orologio stesso un'altra distinzione molto importante è data da quello che io chiamo il codice allora tutti questi orologi tutti gli acqua lampro master 1 sono stati marchiati non sempre riportato sul fondello ma comunque appartengono ad una di queste categorie il numero c0 che poi ha seguito da un numero appartenente alle ventine che può essere un 20 21 22 23 oppure può essere 26 27 28 29 quindi sul fondello troverete sempre un numero tra questi 8 c0 20 c0 21 22 23 c0 26 c0 27 c0 28 o c0 29 che cosa identifica questo numero allora i numeri più bassi quindi dal c0 20 al c0 23 identificano che l'orologio è appartenente a una cosiddetta versione che io denomino standard ovvero un orologio che è destinato ad un uso diciamo così amatoriale perché il sensore che è installato al suo interno ha un errore di approssimazione di circa il 3 per cento con un metro di errore nella lettura della profondità a temperatura ambiente i codici più alti che invece vanno dal c0 26 al c0 29 sono i modelli con cassa in titanio denominati dive master che hanno un modulo con un sensore molto più preciso con un errore che è la metà rispetto ai modelli standard quindi dell'1,5 per cento che corrisponde più o meno a mezzo metro di errore nella lettura della della profondità di immersione sempre parlando a temperatura ambiente a temperatura diciamo a temperatura ambientale questo già ci dà un'indicazione per capire di che orologio parliamo e di quale orologio noi abbiamo tra le nostre mani ovviamente gli orologi dive master sono molto più rari molto più costosi molto più ricercati una seconda distinzione che possiamo fare già soltanto utilizzando il codice quindi questo famoso c0 puntini puntini si può fare leggendo il nostro numero vedendo se è un numero pari o se è un numero dispari quindi i c0 20 22 26 e 28 saranno degli orologi che sono equipaggiati con un modulo dove la parte digitale elettronica che ci va a indicare la profondità ha come unità di misura i metri quelli dispari quindi il 21 il 23 il 27 e il 29 sono invece gli orologi che sono destinati a mercato americano mercato anglosassone comunque mercato dove l'unità di misura tradizionale utilizzata è espressa in piedi quindi già soltanto leggendo questo codice riportato sempre sul fondello del nostro orologio riusciamo a capire ad esempio se il modulo che è installato all'interno è un modulo coevo quindi se sul nostro fondello è scritto ad esempio c0 20 ma l'unità di misura che usa il nostro display è in piedi già sappiamo che o il fondello o probabilmente il modulo che c'è al suo interno sono stati sostituiti con un originale sì ma non con uno coerente al nostro orologio ulteriori distinzioni si fanno con la colorazione ora io tra le mani ho un modello che è denominato dual ton ovvero una versione con casse in acciaio e dettagli in oro esistono quattro colorazioni possibili vi faccio comparire qui in sovraimpressione una piccola immagine per vederle meglio che io ho denominato a b c e d allora la versione a è una versione tutta diciamo argentata con la cassa completamente in acciaio e tutti i dettagli in acciaio questa versione è nota come full silver la versione che ho tra le mani è sempre una versione in acciaio ma con dettagli in oro denominata da citizen dual ton poi c'è una versione sempre in acciaio ma rivestita con un trattamento pvd quindi un trattamento nero e sempre dettagli in oro che è nota come gunmetal e infine la versione di che è la versione in titanio quindi la versione diciamo più più professionale che è sempre ricoperta da un rivestimento pvd nero ed ha sempre questi dettagli in oro diciamo che andando identificare queste quattro versioni della colorazione e il numero seriale che è riportato appunto sulla sul fondello del nostro orologio io sono andato ad identificare 14 possibili versioni di questo orologio che si vanno a distinguere tra di loro non soltanto per i dettagli che ho elencato adesso ma anche per altre piccole differenze come ad esempio il design del coprisensore lo spessore del dell'inserto della della ghiera e se le sedi dei pulsanti sono lucide oppure opache ora andare in questo video a descrivere tutte e 14 queste versioni sarebbe troppo lunghe ma qui sotto nei commenti vi lascio una per una la descrizione dettagliata di tutte e 14 le versioni così che utilizzando quello che è scritto appunto qui sotto nei commenti possiate facilmente identificare a quale versione dalla 1 alla 14 appartiene il vostro orologio e soprattutto potete verificare se è un orologio coevo e coerente qualora abbiate delle difficoltà e non riuscite ad identificare correttamente quello che il vostro orologio vi chiedo tranquillamente di scrivervi al mio canale scrivere magari nei commenti quello che è il vostro dubbio cercherò di rispondervi ed aiutarvi il prima possibile ora andiamo a fare un esempio su come utilizzare la lista delle varie versioni dalla 1 alla 14 che vi ho riportato qui sotto utilizziamo come esempio il mio orologio quello che è tra le che ho tra le mani allora questo è un orologio nella versione dual tone ok quindi io vado scorrendo nella mia lista alla versione b ovvero orologi dual tone dopodiché vado a vedere che cosa ci deve essere scritto sul fondello e vedo che il numero 5 che è il primo dei possibili modelli della versione dual tone sul fondello può avere diverse incisioni nel mio caso io trovo scritto dopo la dicitura c 0 20 trovo anche scritto c q 10 21 quindi il mio orologio è un numero 5 ok quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere il numero 5 allora la profondità del display deve essere indicata in metri ok e questo ha la profondità appunto indicata in metri dovrebbe avere il coprisensore con dei bordi più sottili rispetto al modello c 0 22 ora non ho qui un altro modello c 0 22 per confrontare il coprisensore ma potete reperire delle immagini online e questo vi aiuta a capire se il vostro coprisensore è quello originale o magari è stato preso da un altro modello dopodiché il bordo della hiera che contiene l'inserto è leggermente più spesso rispetto a quello della versione c 0 22 e questo è proprio fatto così vedete questo bordo della hiera che contiene l'inserto è un pochino è un pochino più spesso rispetto all'altra versione non ne ho due al momento per poterli confrontare ma se cercate online delle immagini lo potete fare da soli abbastanza tranquillamente quindi anche la hiera è originale dopodiché le sedi dei pulsanti devono essere lucide nel caso specifico sono appunto lucide quindi io posso dire che questo c 0 20 che è un modello abbastanza raro perché la maggior parte dei modelli appartenenti alla categoria dual ton sono dei c 0 22 quindi un modello che ho acquistato proprio perché è un c 0 20 completamente coevo e completamente coerente è un orologio completamente originale spero che questo metodo diciamo di identificazione del vostro orologio sia utile per aiutarvi a capire le caratteristiche ora possiamo dire tantissime altre cose su questo orologio ma volevo parlare un attimino del corredo perché se state cercando di acquistare uno di questi modelli a fine collezionistico anche il corredo ha la sua importanza e molti si chiedono quale sia la scatola o comunque la custodia originale di questi di questi orologi allora diciamo che le custodie sono moltissime sono diverse possibili versioni c'è una possibile scatola in legno che è abbastanza rara ma che al di sopra della quale ci possono essere diversi loghi infatti la citizen spesso spediva gli orologi separatamente dalle custodie quindi negozianti che non sapevano mai a quale custodia abbinare quale orologio capitava spesso che dessero magari la custodia sbagliata quindi questo non significa che quella custodia non sia coeva ma magari non è quella proprio disegnata per l'acqualand pro master poi oltre a questo esistono i cosiddetti famosi bombolini ovvero queste bomboline che anche in questo caso esistono in diverse versioni ce ne sono alcune più lunghe alcune più corte alcune più cicciotte con diversi loghi corredate anche loro dalla loro scatola che contiene appunto il bombolino che può aver stampato diversi loghi questa è proprio una scatola di un aqualand pro master col bombolino dell'acqualand pro master all'interno c'è il porta orologio poi c'è un'altra diciamo spugna che si infila in questo modo dove voi potete inserire qua dentro i vari certificati cinturini di ricambio manuale di istruzioni eccetera un'altra cosa importante proprio relativa al manuale è molto difficile da trovare nella versione originale online trovate dei manuali che sono appunto scaricabili esistono fondamentalmente due manuali che sono diffusi nel nostro mercato ovvero quello nella versione italiana che ha un codice che è riportato qui in basso che è il ctz6722 e poi c'è invece un manuale multilingua quindi in più lingue che è il ctz trattino 6638 quindi diciamo questi sono i due possibili manuali che potete andare a trovare per questo orologio un'ultima nota ve la voglio lasciare circa il cinturino allora i cinturini originali ancora in buono stato sono praticamente introvabili se li trovate fatevi venire qualche dubbio perché purtroppo le proprietà del del cauccio della gomma che veniva utilizzata all'epoca sono tali per cui un utilizzo prolungato ma soprattutto semplicemente il tempo quindi l'indurimento che la gomma subisce con shock termici caldo freddo inverno estate per 40 anni ha fatto sì che questi orologi avessero i cinturini completamente sgredolati qui ne trovate un esempio che come potete vedere appena l'ho piegato si è andata a rompere però i cinturini originali dell'epoca non sono più reperibili ne esistono delle repliche che sono particolarmente fedeli come quelle che ho installato io che cosa ho fatto nelle repliche trovate questi passanti diciamo della della fibbietta in gomma io li ho tolti e ho messo i suoi passanti originali in metallo della della citizen ora un'altra cosa che voglio fare per aiutarvi a manutenere in modo corretto l'orologio è quella di lasciarvi qua sotto all'inizio della descrizione una serie di link in questi link potrete trovare dei cinturini che si adattano perfettamente all'orologio e soprattutto un kit di batterie per la sostituzione la vita delle batterie di questo orologio soprattutto se attivate la funzione profondimetro io vi sconsiglio di farci delle immersioni perché oggi esistono degli orologi molto più sofisticati quindi sarebbe un rischio inutile andare a sottoporre un orologio che di fatto è un orologio d'epoca un orologio da collezione a questo tipo di a questo tipo di stress però le batterie vengono consumate molto molto rapidamente è importante mettere delle batterie di qualità ok della misura giusta e quando le andate a sostituire sostituirle sempre tutte e tre non le lasciate all'interno dell'orologio quando queste non sono più funzionanti come capire che la batteria sta finendo sta arrivando alla fine della propria vita voi andate nel display nella funzione orologio ok e quindi troverete l'orario indicato da in questo momento specifico sono le 11 e 50 quindi ci sarà 11 i due puntini che lampeggiano e poi i minuti quindi 50 quando questi due puntini che normalmente hanno un lampeggiamento abbastanza lento iniziano a lampeggiare molto velocemente quindi a impulsi molto rapidi più o meno con questo ritmo vuol dire che la batteria è in esaurimento cioè che il modulo ha rilevato che le vostre batterie si stanno esaurendo questo significa che potrebbe smettere di funzionare a breve potrebbe durarvi ancora mesi secondo l'utilizzo che ne fate potrebbe essere anche che solo una delle tre batterie si sta scaricando ma io vi consiglio sempre comunque di sostituirle tutte e tre qui nel link trovate le batterie giuste di marca che dovete acquistare per avere una vita più lunga del vostro orologio soprattutto per scongiurare perdite di liquido che possono danneggiarlo irreparabilmente per chi fosse alla ricerca di emozioni perché magari si è appassionato di questo design di orologio che è davvero iconico e unico ma che non vuole affrontare un acquisto di un orologio vintage magari incappando in qualche fregatura perché magari non è disposto a fare diciamo questo tipo di questo tipo di acquisto ma comunque è appassionato di questo design come ho detto all'inizio del video questo orologio ancora in commercio nella versione moderna non solo ma ultimamente citizen ne ha fatta più versioni in realtà commemorative con delle colorazioni molto particolari ovviamente hanno il fondello a vite hanno un modulo interno completamente nuovo con la durata della batteria molto più lunga molto più affidabile molto più preciso molto più sicuro semplicemente un orologio moderno che quindi non ha nessun interesse collezionistico ma esteticamente è molto simile a queste in realtà ci sono delle piccole differenze che un appassionato è in grado di notare ma che a prima vista appare proprio come un aqualand pro master prima serie se siete interessati ad acquistarle anche in questo caso vi lascio qui sotto i link dove potete trovarli a dei prezzi scontati io come sempre vi ringrazio spero che il video vi sia stato utile ovviamente come ho detto tutti i dubbi e tutte le domande potete farle qui sotto nei commenti cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile alla prossima ciao ciao